E' un pezzo importante di riqualificazione del quartiere, una corte che in realtà è solo pavimentata con delle mattonere di calcestruzzo, diventerà un'area per i cittadini con spazio per la socializzazione, tanti alberi, tante piantumazioni, un pezzo del nuovo quartiere. E' importante che ci sia una comunità di persone che stanno insieme, ci tengono per mano, poi io non sono superman, tanti di voi mi rimproverano tante cose come è giusto che sia, io penso di avercela messa tutta, non sono riuscito a fare tutto, molte cose sono sbagliate, però ci aiutano a farci conoscere, a creare relazioni umane e a vivere pure meglio. Buone vacanze, buon Natale a tutti. Grazie Grazie